Di bella, di bella, di bella non la terra, di bella, di bella, di bella di cervello. Napoli sta con Henry. Un evento pubblico di musica e parole in piazza Municipio ha festeggiato la piena assoluzione di Henry De Luca nel processo in cui era accusato di istigazione a delinquere dopo un'intervista molto critica contro la linea ad alta velocità in Val di Susa. Se questo risultato è stato ottenuto, questo dell'assoluzione, è perché quella sentenza di assoluzione porta migliaia di firme. Quella sentenza, questa sentenza di assoluzione, il fatto non sussiste, demolisce la volontà di censura utilizzata, presa attraverso l'Arnese del codice fascista 414 del 1930. Organizzata dall'Associazione Officine e Festi, in collaborazione col Comune di Napoli, l'iniziativa ha ospitato musicisti e attori che per diverse ore si sono alternati sul palco. Stasera si parla di libertà. I tre pezzi che facciamo parlano delle libertà. Sono intervenuti fra gli altri lo stesso Henry De Luca, il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore alla cultura Nino Daniele. Se una zolla è lavata via dal mare, l'Europa si fa più piccola, come se fosse sparito un promontorio. Io sto con gli abitanti della Val di Susa che da tempi non sospetti combattono contro il potere che vuole invece raggiungere questo obiettivo. Lui in modo pasoliniano ha detto una parola contraria. Io ho ricevuto questo sostegno ad alto livello dal Presidente della Repubblica Francese, dal Ministro della Giustizia Francese, dal Ministro della Cultura Francese e dal Sindaco di Napoli. Questo dialetto coincide con il mio sistema immunitario. Cioè se qualcuno mi insulta in italiano non mi fa niente, non mi coglie proprio, ma manco da lontano, è come se tirassero dei sassi alla mia ombra. Solamente in napoletano sono vulnerabile. Il napoletano è la mia difesa, il mio sistema immunitario, ma anche il mio punto debole. La posso essere ferito, se no niente. Grazie a questa città e a mia mamma e alla sua lingua sono invulnerabile.